ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale ma soprattutto benvenuti o bentornati in questo video speciale 500 iscritti finalmente grazie 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 di cuore a tutti abbiamo acceso il microfono se non c'è la domanda di prassi anche lo speciale non sono contenta perfetto se no non sarei io controllo acceso ok dai smettila allora c'è un caldo terrificante oggi abbiamo aspettato un paio di settimane per diversi motivi a farlo quindi ormai 500 sono stati un pochino superati ma fa lo stesso siamo a 520 semmai che qualcuno si tolga esatto quindi no non è vero in realtà i motivi per cui abbiamo ritardato nella registrazione del video sono stati altri non sto qua a spiegarvi se no diventa infinito ormai voi sapete perché siete qui perché l'avrò scritto nel titolo ci sarà l'immagine di popertina beh non è vero bugiardo vedi tutto qua lo sai cosa io sì loro no forse vedono solo questa ah è vero qualcosa vedono via non dovete vedere niente si occhio che se perdiamo quella abbiamo perso tutto pronti allora ragazzi oggi facciamo i sushi in casa la sua idea eh io 10 euro yuki yuki nita pranzo si 10 euro magari 15 dai 15 sarei a farlo a casa però abbiamo speso di più voleva fare così voleva provare a farlo vediamo cosa salta fuori troveremo troveremo sono molto ottimista allora devo parlare anch'io eh bene o devo solo farti il farti la figlia sushi no faccio io i sushi anch'io cioè lo facciamo insieme tanto lo vedranno chi lo fa intervengo io eh vediamo lo faremo insieme si accettano no stai mettendo le mani avanti ma hai detto lo faccio io ma no lo facciamo insieme cioè dobbiamo cuocere questo insomma dobbiamo fare un po' di cose comunque eh non mi ricordo più cosa stavo dicendo comunque fa lo stesso iscrivetevi al canale ah giusto perché a mille ma anche a mille prima ci sono i 600 ah ogni 100 eh sì ogni 100 lo faccio non ti ricordo di più ah sì ogni 100 eh sì ma adesso abbiamo grandi numeri ogni 500 ma va là ma non è vero allora cosa abbiamo comprato allora anzi partiamo dal fondamento dal riso questo in realtà avevate avuto uno spoiler ve l'avevo anche detto quando avevo fatto lo slot alla spesa di Lidl e ovvero ovvero e ovvero il su il riso da sushi lui non è convinto il riso 10 minuti di cottura si è poco mai mai visto un riso che si cuoce in 10 minuti però è un mezzo chiletto mezzo chiletto scade nel 2024 e va messo in quanta acqua guarda che c'è qui fammi vedere molla possiamo guardarlo dopo aspetta 100 grammi d'acqua si 100 mezzo chilo di riso 250 ml ogni 100 grammi cioè quindi 250 ml ogni 100 grammi sì quindi per 5 ci vuole più di un litro vabbè non è tantissimo ci pensi poi il fondamentale anche questo per il sushi l'aceto di riso che io non ho idea di come dovremmo usare quindi dovrò guardare online perché non ci sono istruzioni l'hai comprato lo so so che va nel riso ma non so quanto ce ne dà e qua non c'è nessuna istruzione detto che qui è un disastro eh non c'è scritto niente però c'è il fiore di loco quindi olistico ah se non viene buono te lo mangi lo stesso eh certo no perché poi lei ah non è buono la voglia sono la fogna ma non è vero poi avocado fondamentale poi questo qua è un residuo prima c'è qualcos'altro di fondamentale uno dei motivi per cui abbiamo tardato a fare questa ricetta il salmone allora per i più fedeli eh sanno che a me piace solo il salmone eh il tonno mi piacciono anche i gamberi però farlo con i gamberi diventava complicato quindi io volevo provare a farlo col salmone la cosa più semplice ho provato a cercare i i cosi da tagliare a sashimi quindi di salmone abbattuto e non sono riuscita a trovarli puntualmente in quel ho girato tre supermercati per due settimane puntualmente quando arrivavo io finito finito ma c'è la tartare 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 potremmo dire no 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 alla fine ho dovuto cedere e quindi abbiamo preso la tartare alla fine invece che mettere delle striscioline tagliate metteremo i cubetti probabilmente i nigiri non li faremo perché sarà impossibile anche perché considerate che quelle due tartare lì sono da 85 grammi l'uno con mezzo chilo di riso facciamo i roll poi ovviamente non potevano mancare le alghe nori queste non sono della linea di Lidl perché quando sono arrivata a fare la spesa da Lidl non c'erano e poi io volevo prendere anche il sesamo me lo sono scordato perché volevo fare il sesami intorno però abbiamo le cipolle croccanti fritte da mettere sopra sempre del Lidl che ha fatto lei no sono del Lidl ah l'avocado ve l'ho fatto vedere l'avocado e niente quindi adesso ah poi c'è una cosa che noi faremo tutte con le mani e senza attrezzi perché non abbiamo i cosi per arrotolarli quindi è tutto un è tutto è tutto io sono molto molto preoccupato di quello che c'è ma va là ma dai secondo me viene fuori il tipico mappazzone secondo me verrà fuori un'insalata di riso con dentro tutta questa roba qui buttata oh se ci butta male facciamo una sorta di poquet con le alghe sbriciolate un po' di cipolle un po' di quello un po' di questo perché se ti butta tu sei così convinta che ce la fai? tu dovresti dire ma no non ci vuole certo ce la facciamo ce la facciamo no ce la fai insieme no no io non lo so fare io andavo al ristorante oggi mi sedevo lì da me l'A21 il C30 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 sono tutti A? no io prendo il C va bene quindi non gli arriva nulla va bene ragazzi allora noi adesso andiamo a cuocere il riso quello non ve lo faccio vedere e ci rivediamo in fase di niente ho visto non va bene questa cosa è un brutto segno sono dieci minuti di intro vogliamo farla ancora ma no basta quindi niente ragazzi cambiamo postazione ci vediamo quando il riso è pronto quando siamo pronti per l'assemblaggio a dopo sei fiducioso un po'? no no bene lasciate un like per darci fiducia allora il riso è pronto è stato un parto prepararlo però è pronto e adesso iniziamo qua mi sono preparata la linea con salmone e avocado già pronti il salmone era proprio dal tartare che vi ho fatto vedere e direi di cominciare aprendo questo qua delle alghe andiamo a scoprire un attimino com'è io qua sento una cosa dura e non riesco a capire cosa possa essere aperte allora vediamo di scoprire un po' che cosa c'è qua dentro questi sono i fogli e questo cos'è? otto fogli allora primo foglio direi di metterlo così prendiamo il riso ecco qua il nostro riso e la prima cosa che dobbiamo fare è stenderlo ok adesso direi di mettere prima l'avocado mettiamo due striscioline così un po' della nostra tartare di salmone cerchiamo di fare una striscia tipo per far sembrare che sia intero per lo meno cosa dite? un altro pezzettino? un altro pezzettino? ecco direi che ci siamo adesso visto che non abbiamo gli attrezzi vediamo se riusciamo a mani nude ma vi dirò non sembra tanto complicato cerco di stringerlo un pochettino qua tiro in qua il profumo sembra buono adesso con questa ciotolina di acqua mi bagno un po' le mani e bagno qua l'alga vedete perché questo qui è il trucchetto poi per chiuderla da quanto ho capito voilà ma io sono no è uscito è su io devo dire che il primo rotolino fatto a mano non è venuto niente male eh? sì sì non mi sembra niente niente male direi di metterlo da parte e procedere col secondo vediamo un po' cosa viene fuori perché adesso voglio provare a farlo al contrario allora adesso metto il riso poi giro e vediamo se riuscirò a farlo sono promossa intanto amore che stai supervisionando sì sei contento sì che entusiasmo io ho i dubbi sul gusto vediamo perché devi avere i dubbi sul gusto non posso averli i dubbi sul gusto vabbè tu non hai i dubbi sul gusto no perché quel roll che ho appena fatto il profumo è molto buono temo eh temo cosa temo? il giro anche tu? sì insomma li faremo tutti tutti in altro modo tutti in altro modo dai proviamo allora o vogliamo provare a metterci una pellicola qua è bello è bello attaccato se lo attacchi bene secondo me non rimane attaccato aspetta che mi bagno le mani non so se bagnarlo è stata sì sì bisogna bagnarsi le mani per lavorare il riso non lo sai non hai mai guardato il video dove spiegare io vado al ristorante sì ho capito ma anche io vado al ristorante però avevo guardato dei video anche prima di avere questa idea qua questa idea malsana tra l'altro senza attrezzi perché noi siamo avanti dai tiene eh sembra allora proviamo non lasciarlo lì troppo veloce veloce è un attimo veloce un attimo non mettermi l'ansia prendi pezzi più più piccoli questo deve fare veloce non mettermi ansia vediamo eh tiene 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 la faccia di giapponese sta lì col foglio di bambù tiene per modo di dire però questo questo è bello è una bella bestia questo qua questo qua è mezzo chilo di riso solo questo quindi questo è stato fatto per avere per metterci le cipolle sopra le cipolle croccanti si però adesso non le mettiamo le mettiamo dopo le mettiamo dopo non so se mettergli la pellicola per per tenerlo compatto intanto che faccio gli altri schiacciano sempre un po' così di più di più schiaccia ho perso ancora un pezzo piccolo decolo e dai buono quindi si può fare si può fare anche senza bambù abbiamo risparbiato i soldi del bambù quanto costano magari costano 10 euro 10 euro allora io direi che i primi due avete visto come li abbiamo fatti vado avanti off camera perché se no non finisce più e facciamo gli altri e ci vediamo quando è ora di mangiare insieme e ci vediamo Grazie a tutti.